Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Garcini. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, rallentamenti per perdita di carico tra Valdarno e Firenze Sud. Stanotte, in orario 22.6 per lavori di ripristino della pavimentazione, sarà chiuso lo svincolo di Firenze e Scandicci in entrata in direzione Roma. Sempre in A1 mercoledì 20, in orario 9.19, resterà chiuso il tratto tra il Bivio con la variante di Valico Baccheraia e Pian del Voglio in direzione Bologna. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, invialamentola fino al 15 settembre, chiuso il controviale tra Viagiotto e il numero civico 48. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!